Due episodi di cronaca nel Messinese riguardano ancora una volta la violenza sulle donne. Nel primo caso il reato contestato è assai grave, violenza sessuale su una giovane conoscente. E' questa l'accusa con cui la sera di martedì 10 novembre i carabinieri della compagnia di patti hanno arrestato un 26enne del luogo, ponendolo ai domiciliari. I fatti risalgono allo scorso settembre. Il coraggio della giovane vittima, che ha avuto la forza di denunciare la violenza subita, ha reso possibile il tempestivo intervento da parte dei militari, che sotto la guida della procura della Repubblica di Patti hanno iniziato ad indagare su quanto accaduto. I carabinieri, a seguito delle prove raccolte, hanno accertato che il 26enne, in una notte settembrina, aveva costretto la vittima a subire atti sessuali, dopo averla condotta con violenza in un luogo isolato e buio. Inoltre, dopo averla immobilizzata e denudata, l'uomo ha tentato ripetutamente di avere un rapporto completo con lei. La ragazza però, fortunatamente, è riuscita a divincolarsi e a sottrarsi dalla violenza dell'aggressore, andando poi a denunciare il tutto ai carabinieri. Al termine delle indagini, dunque, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Inoltre, c'è ancora un episodio di stalking sui nebrodi. Questa volta, i carabinieri della stazione di Sinagra hanno posto agli arresti domiciliari un quarantenne originario di Sant'Agata Militello, ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni della ex convivente. In passato, l'uomo era stato già sottoposto, per gli stessi motivi, al divieto di dimora. La reiterazione del reato, però, ha portato la Procura della Repubblica di Patti ad emettere la misura più restrittiva.